E' risata 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se mi ringe di un spogito. Si mi ringe è, siamo mai sul tuo anno. Aspetta, mi ringe tu un domanto. Mi ringe il mio frattamento della salute. Beh, come la trattata. Scusate che sono di quel momento simile. Bene? Mi ringe il mio frattamento. Mi ringe il mio frattamento. Di cui sei tu? Tu fai'a. Mi ringe il mio frattamento. Non il ringe il mio frattamento. Come ti ascii a fare le miele? Ecco! Come non ti ascii a compito? Non. Ah, come la sua esperienza è arrivata. Ma che ti soporti a fare? Non c'è un'e che a suspevere, ma è il mio senatore. Non posso vincere la mia buona? Non, non c'è una scoperta? Non è facile che a l'armbito. Non, perché ne basta? Come ti? Uno dei 5 minuti e il minuto a sé di loro. Cosa che vedi a la sua? Cosa che vedi a me stai? Mi chiede in un'escalato. Ma che ti chiede? Ma che ci chiede? Non ci chiede in un'escalato. Se non è così, ma cosa è? Mi chiede ho il suo corpo. Mi chiede il suo corpo. Mi chiede il suo corpo. Mi chiede il suo corpo. Soltà, mi chiede il nostro cuore. Mi chiede il mio dottore. È così? Ma non è così. Mi chiede il suo corpo. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Bicca anche a rupo. Il riso è barato. Sous-titrage ST' 501 ... 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 non c'è tanto che voglio dire si puoi? no, io voglio non c'è un problema io chavo non c'è un problema non c'è un problema ma io non c'è un problema che non c'è un problema non c'è un problema Sì, ma lei è un sacco, che è un sacco di una persona qui è un sacco di una cosa. Ci sono le piuttosto che ci sono, ma non è un sacco. È un sacco di un sacco di un sacco? No. Cosa? Cosa che è un sacco? Non c'è sì, ma non c'è un sacco? No, ma non c'è un sacco di un sacco di un sacco di un sacco di un sacco. ... Sarà qualificazione delle caratteristiche a voi... Se non viene senza far farlo... ...rendiamo un altro tempo... ... ed è Committee. Tu non hai fatto e che hai fatto... ...e la caratteristica del mercoledore. Sta par ici... ... Va tre correndo... ...d'inserirei il mercoledore e l'argo... ...che non ti fai sapere. Cosa è che ci sono? Cosa è una esperienza di più. Non c'è mai con il suo corso. Non c'è un corso di più. Ma è un corso? È un corso. Non è un corso. Nogliare a una scolta e la scolta. Non c'è una scolta. Non c'è nessuno. Nogliare. Non c'è una scolta. Non c'è una scolta. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti